Grazie a tutti. Uno, due, tre. Allora, un saluto da Vibo, Vibo Valencia. Questa è la prima cosa che ho fatto, prego. Ringrazio Alessandro Antinelli, non tanto per la doccia che devo fare, ma perché mi ha stimolato a fare la donazione. Una cosa importante, quindi mi accingo anch'io a farmi bagnare con il ghiaccio. Però prima devo nominare Pippo Calipo, il grande patron della nostra squadra, Fabio Giulianelli, un altro grande personaggio, e il decano degli allenatori, Silvano Brandi, che sicuramente accetterà volentieri questa sfida. Andiamo. I miei collaboratori sono pronti, mi raccomando, con grazia. Lì, lì, lì. Bello, bello. Com'è? Porca vacca. Il momento, non ero più abituato. Quando stavo a bestemmia, sì, mi hanno detto. La bestemmia si è sentita? No, se la fai adesso va bene. L'ho riuscita.